Sono Ann-Marie Ufti, neuropsicologa e logopedista. Ho presentato il disturbo sociocomunicativo o pragmatico con le caratteristiche indicate dal DSM V dal 2013 come nuova diagnosi. Ho presentato sia le caratteristiche dal punto di vista pragmatico che le difficoltà legate a questa diagnosi per quanto riguarda il rischio di overlap con il disturbo autistico, l'assenza di strumenti di valutazione e di linee guida in generale per la diagnosi e anche ovviamente per la riabilitazione. Grazie a tutti.